Al giorno d'oggi acquistare una vettura nuova è diventata una spesa veramente importante da sostenere e per questo motivo che oggi su Recensione Smart vi portiamo la rubrica usato batte nuovo proprio quando in fase di acquisto si valuta il rapporto qualità prezzo e come lo faremo? Beh portandovi vetture del passato, vetture che hanno fatto la storia o vetture che hanno qualche anno alle spalle ma risultano essere attuali anche ad oggi proprio come la Renault Arcana ragazzi e tranquilli non parleremo subito del rapporto qualità prezzo perché ho avuto modo di provarla per diversi giorni la porteremo su strada, vi elencherò pregi, difetti e tante altre cose interessanti e direi di partire proprio dall'estetica di questa Arcana che secondo me risulta essere attuale anche oggi sì magari non ci sarà il nuovo beige Renault, il muso non sarà all'ultimo grido ma ragazzi è la parte sportiva di questa Arcana che colpisce molto avremo un allestimento RS Line con la griglia nera con inserti cromati e con il logo anch'esso cromato ci abbassiamo piccolo splitterino anteriore e prese d'aria in nero lucido fari con la C, LED Pure Vision e soprattutto nella zona laterale c'è un beige importante bene sì come anticipato eccolo qui l'RS Line che ci va a ricordare quindi l'allestimento sportivo di questa vettura con tetto nero a contrasto, anche le finiture qui delle portiere ma soprattutto calotte degli specchietti nere con anche il sensore dell'angolo cieco perché lei è fornita di oltre 20 ADAS a disposizione cerchi anch'essi neri lucidi con un baffetto così chiamiamolo rosso cerchi da 18 disponibili in 17 sulle nuove versioni anche i 19 ovviamente abbiamo la parte qui sempre per dare un tocco più sportivo alla vettura ma ragazzi parliamo di dimensioni comunque di tutto rispetto 4 metri e 57 di lunghezza, 1,82 di larghezza e anche 1,57 la altezza ovviamente il passo ve lo racconterò quando parleremo di abitabilità di bordo ma c'è un qualcosa di veramente capiente e sì è proprio il bagagliaio cosa importante l'apertura è manuale e anche la chiusura ecco forse è una piccola mancanza mi sarebbe piaciuto averla elettroattuata perché faccio palestra anche se non si direbbe è bello pesante da chiudere quindi fate attenzione cappelliera che si alza in automatico con il portellone e all'incirca 480 litri di carico a disposizione oltre 1200-1300 una volta abbattuti i sedili con doppio fondo, luce di cortesia e ahimè manca la presa da 12 volt per una vettura che risulta essere spaziosa, confortevole per i lunghi viaggi è una mancanza per me da non sottovalutare ci sono comunque delle varie modalità per poterla portare qui dietro la presa da 12 volt con dei cavi extra però in questo caso di serie non ce l'abbiamo quindi attenzione e richiudendo il portellone notiamo qui sotto la retrocamera posta vicino all'apertura del portellone quindi occhio a non sporcarla e vediamo anche il taglio vi ricordo che in questo caso stiamo parlando di un SUV C che possiamo definirlo Coupé quindi C, segmento C, Coupé troviamo l'head coast to coast praticamente che viene unito poi dal marchio Renault il modello Arcana, l'itec, questo è uno spoiler sulla motorizzazione mi piace il fatto che qui il tetto sia spiovente non c'è il tergicristallo perché l'acqua dovrebbe defluire in automatico anch'esso comunque oscurato abbassandoci doppio scarico finto perché il vero sarà nascosto sotto e sensori di parcheggio ne abbiamo parlato abbastanza prima della guida vi chiedo di farmi sapere se questa rubrica con prove e riprove di veicoli usati vi interessa anche perché porteremo veicoli anche diversi magari da un semplice SUV qualcosa di elaborato, qualcosa di storico, qualcosa di divertente se anche tu che stai guardando questo video hai qualcosa da consigliare scrivelo qui sotto nei commenti o se vuoi proporti scriverci a marketing-recensionesmart.it magari la prossima vettura approvata sarà proprio la tua andiamo a guidarla modalità sport, piccola salitina ma soprattutto strada bella dritta che ci permette di farci divertire giù tutto il piede e in poco tempo ci ritroviamo subito a 0-100 in 10,6 secondi una velocità massima di 174 km orari ovviamente auto limitata per questa tripla motorizzazione che in realtà in totale diventa un 1.6 4 cilindri aspirato benzina da 145 cavalli complessivi e ragazzi quindi questi 145 cavalli da dove escono fuori visto che vi parlavo di tre motori beh da un motore termico all'incirca da 90 cavalli da un motore elettrico da 49 e da un terzo motore anch'esso elettrico da 20 cavalli che serve per far lavorare in maniera sincronizzata il termico con l'elettrico e quindi ragazzi questi 145 cavalli full hybrid sono la stessa motorizzazione che abbiamo provato su Clio e Captur e quindi una vettura del 2022 ad oggi risulta di avere ancora la motorizzazione attuale venduta nel 2024 quindi già prima nel 2022 erano messi bene dal punto di vista delle motorizzazioni già con l'innovazione ma soprattutto ragazzi è qui che l'usato batte il nuovo perché oggi ti porti con molti meno soldini a casa una motorizzazione che risulta essere ancora quotidiana e quindi una gran cosa ma soprattutto adesso ragazzi ho la modalità sport inserita che fai? Non la sfrutti? C'è un rettilineo? Non lo sfrutti? Certo! Giù tutto il piede e notiamo subito che questi 145 cavalli donano veramente una doppia anima a questa Renault Arcana perché vi permetterà di avere una vettura di dimensioni grandi ok? e quindi alcuni diranno beh chissà come sarà da guidare beh in realtà vi permette di avere una vettura che sa essere divertente da guidare soprattutto anche a velocità un po' più alte ok? avere un'ottima tenuta di strada perché comunque sì il baricentro è alto ma la gestione dell'assetto è veramente ben fatta vi permette comunque di andare anche un po' più veloce nelle curve senza scomporsi perché sì andremo ad avvertire un leggero rollio ma no! non sentiremo strideri pneumatici anche mettendola sotto sforzo comunque la tenuta è veramente ben fatta e quindi comunque capite che avete prestazioni tenuta, divertimento e soprattutto quindi un motore che può far divertire e soprattutto andare a giostrarlo bene perché comunque vi permette anche di caricarlo e non sarà comunque un motore sottodimensionato perché non avremo rotture di scatole che magari hai l'autocarica e perde tante performance no! è sempre un motore che lavora bene a 360 gradi e soprattutto avendo tre modalità di guida abbiamo tante personalizzazioni Sport l'auto diventa super pronta a divertirsi MySense vi permette di personalizzarla andando a modificare diverse voci come lo sterzo o altre piccole casistiche e a proposito di sterzo visto che l'ho appena nominato vi posso dire che è uno sterzo anch'esso a doppia anima perché se la guidate in Sport risulta essere preciso, veloce e soprattutto diretto e anche nei cambi di direzione sono rimasto piacevolmente colpito perché io ho provato la Rafale una vettura più o meno simile ok sempre della Renault e comunque lo sterzo era ben fatto ma in quel caso avevo anche le quattro ruote motrici e soprattutto anche che le due ruote posteriori erano sterzanti qui invece abbiamo una sola trazione anteriore con le sole ruote anteriori sterzanti e comunque una vettura di dimensioni importanti che segue veramente veramente bene quelle che sono le intenzioni sia sullo sterzo ma anche negli spazi un po' più stretti rendendo la vettura dinamica ma anche in alcuni casi passatemi il termine compatta perché segue proprio bene i movimenti e quindi in alcuni casi dico ma ha le quattro ruote sterzanti no però quasi sembrerebbe e quindi ovviamente questa l'anima divertente ma se io metto eco pace totale scompare il termico si va in elettrico si può andare nei percorsi urbani come quello che sto affrontando adesso anche per l'80% del tempo in solo elettrico e soprattutto si arriva anche ai 135 km orari in solo elettrico ovvio se ci arrivate premendo veramente poco il gas senza dare troppo potenza perché adesso io sono in eco sono in ev ma appena butto giù il piede dall'acceleratore subito entra il termico e subito quindi aiuta per avere una maggiore potenza e faccio subito chiarezza parliamo di un full hybrid che in alcuni casi può andare anche solo elettrico come vi stavo spiegando ma siccome ho portato sul mio papà che mi ha chiesto ma fede ma la sento che va elettrica ma si carica? no, è un ibrido che si ricarica da solo in automatico ok? si va a ricaricare sfruttando delle decelerazioni, le frenate e soprattutto si va a ricaricare anche grazie al motore termico perché infatti io alcune volte vedo che direttamente qui dal cruscotto sto andando in elettrico con la schitta EV ma soprattutto vedo che il motore sta dando potenza alla parte elettrica per poterla ricaricare alla batteria oppure direttamente a trazione alle ruote perché comunque la batteria è già sufficientemente carica e vedo anche lo stato della batteria che in questo momento è al 50% quindi come vi stavo dicendo una bella gestione che mi permette di fare ambedue le cose e soprattutto anche di andare a risparmiare carburante ma quello è un discorso a parte andiamo a parlare effettivamente di come si comporta l'unione tra l'ingresso del termico e dell'elettrico perché qui c'ho qualcosa da dire allora come vi dicevo all'inizio video stessa motorizzazione di Clio e Captur su Clio avevo notato ogni tanto un ingresso del motore termico troppo ad alti giri e soprattutto a volte l'ingresso del termico andava a far giostrare diversamente il cambio e quindi in alcuni casi andare a dare dei piccoli ritardi nella cambiata queste cose nella Captur erano scomparse mentre sulla Arcana che abbiamo oggi in prova le ho ritrovate quindi come sulla Clio ma io sono su alcuni forum conosco un po' di persone conosco un ragazzo che ha l'Arcana e vi posso dire che in alcuni casi con alcuni richiami, alcuni aggiornamenti della centralina eccetera eccetera questo problema viene rimosso tant'è che come vi dicevo stessa motorizzazione della Captur non c'è quel problema essendo la Captur più nuova quindi non sono modifiche meccaniche ma bensì software ok? quindi potete anche provare a informarvi per capire se è un qualcosa che a voi dà fastidio e quindi volete risolvere ma vi racconto bene come funziona ovvero l'elettrico e il termico lavorano insieme in alcune casistiche e quando il termico è spento ovviamente si va ad accendere ad andarsi a inserire nella parte elettrica ovviamente lo fa con un bel tempo in alcuni casi trovo veramente dei ritardi su questa Arcana no e neanche sulle altre Renault in generale l'ingresso del termico è pressoché immediato ma come vi dicevo ovviamente per lavorare insieme c'è anche un cambio speciale che Renault ha preso direttamente con la stessa tecnologia della Formula 1 ovvero un cambio automatico a innesti frontali con 4 marce nel termico e 2 nell'elettrico che vanno a regalare all'incirca 15 combinazioni possibili sul cambio e capite bene che quindi è difficile capire mai bene perfettamente quale marcia verrà utilizzata non c'è in questo caso un cambio manuale su questa versione poi in realtà c'è anche una versione ibrida mild ok quindi in generale è un cambio che in un uso quotidiano ragazzi funziona bene non dà mai troppi problemi se non quando magari accelerate un pochettino di più e vi va a dare qualche piccolo buco di coppia dovuto non al motore ma bensì al fatto che tenga un attimino un po' più lì la marcia fermo per capire un attimo quale andare a inserire e poi la va a inserire e quindi comunque poi vi ridà la giusta spinta per il resto come vi dicevo va benissimo anche in un uso tranquillo super e soprattutto ragazzi in una guida un po' più sportiva io vi consiglio di mettere il cambio in B quindi in brake che vi permette quando ad esempio magari volete prendere una curva più veloce che quando andate a lasciare il piede dall'acceleratore va ad inserirsi una minima frenata rigenerativa che quasi va a simulare un one pedal cosa che poi in realtà è così non è e vi permette quindi di senza andare a frenare andare a perdere un po' di velocità che magari appunto nella curva aiuta sempre perché magari eravate arrivati un po' troppo veloci e vi permette di correggere bene la manovra poi ovviamente la B serve maggiormente nelle discese per avere il brake non andare a su riscaldare i freni e anche per ricaricare maggiormente la batteria per il resto poi quando magari andate a velocità un po' più alte tipo in autostrada eccetera eccetera mantenete la D quindi si va a inserire direttamente qui dal pomello del cambio e poi andrete a far scorrere e veleggiare la vettura non ci sono quindi palette al volante non c'è nessuna regolazione di quel tipo essendo solo automatico e ragazzi cosa importante non c'è neanche una regolazione per la frenata rigenerativa se non utilizzare la brake e ora ragazzi andiamo ad affrontare un discorso fondamentale ed è secondo me uno dei jolly di questa vettura ovvero proprio i consumi perché qui c'è tanto da raccontare ho anche dei pareri di una persona che la guida da 50.000 km e mi ha detto quelli che sono stati anche i suoi consumi ok vi posso dire i miei io ho fatto guidando piano i 4,5 litri ogni 100 km la persona che ha questa vettura fa i 4 quindi comunque siamo lì vicino se guidate in maniera leggermente distratta fate i 5 litri ogni 100 km se accelerate un pochettino di più fate i 5,5 se vi divertite fate i 6 in autostrada fate i 7 ok questo vi ho detto litri ogni 100 km dei consumi ragazzi clamorosi cioè comunque per una vettura di queste dimensioni di questa motorizzazione e così via veramente veramente ben gestiti quindi vettura divertente che consuma poco confortevole perché sospensioni comode sembra di stare su una nuvola prendo le buche adesso apposta le sento a livello di sound ma non sulla schiena bagagliaio di dimensioni importanti comodo per i lunghi viaggi comoda da guidare se voglio la guido con un dito a volte silenziosa quindi eccetto qualche piccolo difettuccio che vi ho elencato prima una guida su strada promossa ma soprattutto ragazzi promossa anche dal punto di vista della sicurezza 5 stelle nei crash test e soprattutto comunque 20 ADAS a disposizione su altre versioni più moderne ce ne sono un pochettino di più però qui c'è tutto frenata di emergenza assistita sensore angolo cieco cruise control adattivo line assist e così via cosa importante retrocamera in questo caso singola non c'è il 360 la qualità non è altissima ve lo confido però poi dal punto di vista della gestione degli ADAS sono veramente ben fatti in questo caso c'è anche la lettura dei cartelli stradali ok funzionano tutti bene molto comodo l'adattivo mi è piaciuto molto molto in autostrada l'ho usato veramente ed ero tranquillissimo piccolo difetto degli ADAS line assist non mi è piaciuto perché la vettura rimane al centro sì però un po' brusca quando magari ti avvicini verso la linea a riportarti in carreggiata quindi quello poteva essere tarato un po' meglio per il resto come vi dicevo vettura promossa saranno stati così anche gli interni saranno all'altezza del 2024 scopriamolo ragazzi scusate interrompo il video per aggiungere una cosa importante sui consumi qualche giorno fa parlavo con un proprietario di Arcana che mi aveva confidato di fare i 3,5 litri ogni 100 chilometri quando si impegnava io ho detto mi sembra un po' strano mi sembra un po' poco ma guardate cosa ho appena fatto ho percorso gli ultimi 29 chilometri in modalità EV ove possibile per il resto se andava in termico con la modalità D per sfruttare il veleggio e soprattutto una velocità media tra i 70 e gli 80 chilometri orari di media e guardate che consumi ho portato a casa 3,1 litri ogni 100 chilometri quindi capite bene che sono dei consumi veramente eccezionali che fanno mettere il titolone quindi complimenti ovviamente sia chiaro mi sono veramente impegnato a andare a un'andatura moderata e soprattutto sono stato fortunato che comunque la strada era scorrevole in altre casistiche tra frenate ripartenze e così via è molto più complicato portare a casa questi consumi ma qui stando praticamente a limite perché in tangenziale arrivi ai 90 in provinciale ai 70 quindi io stavo tra i 70 e gli 80 ho consumato veramente pochissimo fatemi sapere cosa ne pensate mentre mi avvicino la vettura mi riconosce perché ho le chiavi in tasca si va ad aprire in automatico ma soprattutto ci ricorda un passo di 2 metri e 72 e anche un'altezza da terra da non dimenticare perché mi permette comunque di andare anche nei terreni un po' più complicati stando sicuro di non andare a toccare quindi parlando di notiamo subito una cura del dettaglio perché le cuciture rosse sulle cinture sedili e anche sulla portiera vi fa capire che anzi vi fa ricordare che parleremo dell'allestimento sportivo RS Line e potete vedere che anche qui dietro c'è tanta cura con le portiere con inserti in finto carbonio ecopelle e qui sotto ci potevamo aspettare la moquette che neanche davanti c'è e secondo me poteva essere aggiunta ma comunque dei materiali di ottima qualità entriamo notiamo subito bracciolo con due portabicchieri e questa è la regolazione del sedile del guidatore sulla mia altezza un metro e settanta questo è lo spazio per le gambe davvero ottimo per la testa anche in questo caso magari alcuni pensano c'è il tetto spiovente rischi di toccare anche se mi alzo tanto veramente non andate a toccare quindi un'ottima gestione e a proposito di tetto nero che dà sempre un tocco più sportivo con luci bianche che dà modernità chiudiamo il bracciolo e ragazzi vi faccio notare subito una cosa importante il tunnel centrale è bello rialzato ma è anche bello largo quindi si riuscirebbero a posizionare i piedi ma meglio evitare tenerli larghi perché se ci imponiamo nella zona centrale guardate qua io praticamente non vado a rompere le scatole alla persona seduta qui di fianco o alla mia destra quindi anche in cinque complice la larghezza di un metro e ottanta due riuscite a stare comodi ovvio se siete del passeggero però non è tutto tirato indietro perché guardate questo è lo spazio a disposizione qui davanti oggi si è seduto un collega test driver di due metri e comunque c'era ancora spazio a disposizione quindi io vi consiglio di portarlo un pochettino più avanti anche in cinque si viaggia comodi e come potete vedere in questo caso i vetri sono anche oscurati ma vediamo lì davanti come si sta direi di partire subito dal battitacco RS Line in alluminio proprio come la pedaliera ma soprattutto parliamo di questi sedili comodi avvolgenti ma anche belli da vedere e soprattutto con cuciture rosse che ritroviamo anche in tutta la zona anteriore della vettura posizione ergonomica per il poggia testa per limitare eventualmente il colpo di frusta e siccome sono regolabili elettricamente sono comodi da utilizzare ma non c'è il tastino per poter salvare la personalizzazione della posizione caliamoci all'interno dove notiamo subito il volante a sinistra regolazione ADAS destra infotainment beige RS Line ma soprattutto inserti rossi come le cuciture anche nella parte anteriore della plancia e poi ragazzi quando mi mettono un finto carbonio così a me piace veramente veramente tanto touch and feel sicuramente ogni tanto va a regalare qualche piccolo scricchiolio ma solo se li toccate perché durante la guida assolutamente no anche qua vedete e poi vediamo fuoriuscire una piccola luce viola perché sono i led ambienti che soprattutto sono regolabili anche dal punto di vista della colorazione se apriamo qui sotto notiamo il portadocumenti con luce di cortesia relativamente spazioso a differenza del poggia telefono qui dove avremo la basetta wireless per poterlo ricaricare e sì il telefono ci sta ma se dovete attaccarci ad esempio la parte di ricarica per ricaricarlo o andare ad attivare Apple CarPlay o Android Auto che funziona solo via cavo è un po' più difficile da utilizzare bene invece che sia nascosta perché non arrivando il sole non andrà a surriscaldarsi manettino del cambio che è retroilluminato quindi ottimo anche di sera e soprattutto parlando di climatizzazione ahimè su una vettura di questo tipo mi sarei aspettato un B-Zona invece risulta essere Mono-Zona funziona bene parlando invece del tastierino possiamo vedere le varie funzionalità tra cui riscaldamento sedili possiamo andare a riscaldare anche il volante ma soprattutto la P perché ci permette di parcheggiare in automatico ho provato diverse volte nessun problema le modalità di guida ma anche il tastino EV perché in questo momento la vettura anche se non si direbbe è accesa ma come potete vedere dalla scritta EV è in modalità elettrica quindi non sentiamo nessun rumore proprio come riusciamo a vedere da questo cruscotto da 10 pollici completamente digitale e anche personalizzabile con tutte le informazioni a proposito di personalizzazioni infotainment che qua si può regolare perché se io tengo premuto posso andare a gestire quello che è la gestione dei widget ecco non è sicuramente velocissimo però è sicuramente intuitivo ok prende bene i tocchi in questo momento avevo sbagliato già cliccare vi posso assicurare che il touch funziona perfettamente e comunque come vi stavo dicendo Apple CarPlay Android Auto solo via cavo radio FM e l'impianto stereo è clamoroso ve lo giuro sto andando sempre in giro con la musica che suona veramente veramente bene quindi sotto questo punto di vista veramente un'ottima gestione con anche lo specchietto senza cornice ma ora tiriamo le conclusioni allora no non ho dimenticato di startare la registrazione con il telefono in mano e dici Fede ma ti stai facendo gli affari tuoi no assolutamente stavo controllando sui vari siti di auto quanto costa questa Renault Arcana perché mettiamo le mani avanti io ho iniziato dicendo ah Fede ragazzi ottimo rapporto qualità prezzo è una riprova usato batte nuovo ma è veramente così ora ve lo spiego vi dico i miei pareri e anche quanto costa lei parliamo di una vettura del 2022 con circa 25.000 km che a listino due anni fa costava all'incirca 35.000 euro euro più euro meno insomma i prezzi erano in continua variazione comunque un prezzo di questo tipo ad oggi due anni dopo e 25.000 km dopo quindi comunque una vettura che dal chilometraggio è ancora praticamente seminuova a me invece di dire in fasce comunque 25.000 km sono veramente pochi oggi oscilla su prezzi che vanno tra i 25 26 27 28.000 euro in questo caso con il concessionario che ci ha prestato la vettura ovvero il concessionario messa del quale in descrizione troverete tutte le informazioni e anche il link d'acquisto di lei e altre arcana a disposizione o comunque lo store di messa la riuscirete a portare a casa ad esempio questa qui a 25.900 euro in questo allestimento con due anni di garanzia e alcuni extra come gadget e soprattutto anche le pedane sottoporta un qualcosa da tenere scontato ovviamente fermi tutti prima che nasce il attenzione video pagato sponsorizzato ti sei venduto fermi tutti questo video è un video esattamente come tutte le altre recensioni del canale svolto in collaborazione per raccontare a 100% come va la vettura per informare qualcuno che può essere interessato ad acquistarla quindi vi ripeto che c'è il link in descrizione ma soprattutto sincero al 100% non vi ho nascosto nessun difetto se non vabbè insomma quelli che magari non ho visto un graffietto essendo usata eccetera eccetera ma per il resto vi ho detto tutto dalla A alla Z come funziona ed è sempre così i nostri video sono sempre sinceri al 100% quindi ragazzi se volete premiare questi sforzi iscrivetevi al canale è gratuito un bel like un commento fatemi sapere cosa ne pensate di questa rubrica ve lo ripeto è un video come tutti gli altri che in questo caso è andato con un concessionario il prossimo sarà con un proprietario eccetera 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 detto ciò ragazzi siamo andati lunghissimi ma spero che il video vi sia piaciuto e vi auguro magari di guardare qualche altro video sul canale perché siamo pienissimi Captur, Clio quindi sempre ambito Renault per chi è interessato o tutti gli altri marchi a disposizione io sono il vostro Lovio Federico vi auguro una buona giornata e perché no al prossimo video sempre qui su recensione smart come i calciatori bacio la maglia ciao